Adesso ti faccio uno scherzo, a gentile richiesta, visto che Cocco fino adesso ha fatto il maestro, ma voi non sapete che è il più bravo colmettista di tutta la provincia dell'Imperia, chiediamo anche un assolo del maestro Cocco, oltre ai complimenti per tutta la sua mano, complimenti. Mi credo un po' la promessa, allora ringrazio il suo sindaco, ringrazio il cuore a parte di tutti noi e di tutta la cittadinanza. Allora, benissimo, proseguiamo adesso.